Ciao, ho capito che era questo Ah, io Q2, guarda, guarda Ah, ma gli operatori sono incolati Allora vado con Lorda Chunk Noi sì Ovviamente no Voglio vedere lo smoke con le orecchiette da gatto Ottimo, ma quale squadra è il 25? Proteggete il signor orso Guardate Ma quassé Guardate l'ostaggio Quei cattivoni avevano mandato la spia per il signor orso Ma li sentite i commenti? Della moda Della moda La favola Ma che prego no Ah, e quando ho parato a un muro Eeeh Ti pescono le stelline Invece dei bughi Ma... ma ora fortificata Ma... Ma l'ostaggio perché fa tipo Uuuuh Si diverte tipo io Madonna come... Rosa Lucido Ma nel muro c'è un aeroplanino che vola Si Guarda Si vedi che c'è la carta da parati con l'aeroplanino Ah, giusto, non possono avere il Glazer Fammi divertire Eh si, hanno il Pitch Up G2 Vi porti Mi sono so... Allora... Le porti Stai Alla larga Riparo mobili piattato Che cosa Non ci cosa Sì Ma io sono morto con una granata tirata a caso Ma non ci credo Ma che figlia Madonna Rimaneva solo un amichetto Oh ho ferito qualcuno Ho ferito qualcuno Ah ricca 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 Guarda Colpisci quel fiore Colpisci il fiore Guarda sto piangendo Oddio Ma ricca hai fatto una doppia Certo Che delusione per i loro genitori Che delusione per i loro genitori Ma lo stai sentire Ma io voglio un gioco tutto così Ma poi hanno pagato anche dei doppiatori Ti rendi conto? Ma i Ubisoft veramente si drogano male Ma i Ubisoft veramente si drogano male però Air Q2 1 Ma è bellissima sta cosa veramente Ma dovrebbe farlo con tutte le mappe Io voglio un gioco così Altro che censure Cioè Io non voglio un gioco col sangue Io non voglio un gioco così Ma dove si nascondeva il signor Orso? Il signor Orso? Ma tra l'altro guardate Se trovate un drone Guardatelo perché tipo Ha i baffetti da gatto Da lontano lo videro Era lui Il signor Orso Oddio Ma queste fitte le varono Così io vado a fare le aggette Da lontano lo videro Era il signor Orso Cioè ma quanto è bello 10 secondi e poi si gioca 10 secondi e poi si gioca 5 secondi alla ricreazione 5 secondi alla ricreazione Gli eroi esultarono Ma guarda È la stanza quella È bellissima sta cosa È bellissima Questa cosa è veramente bellissima Il senso delle proporzioni Della misura è sconvolgente Della misura è bellissima Il senso è bellissima Il senso deve essere bellissima Il senso delle Deve essere bellissima Gli ero C'è Il senso delle È bellissima Il senso delle Questa È ciao boh siamo spostorescenti qua dentro sfondo il muro che dici non so se può guarda l'unicorno come va bravo entro davanti a me dietro un cattivone in giro i cattivoni erano stati sconfitti c'ho una mira all'orto cane hai notato che mi è stato baggato è bellissimo no ma belle la dimensione da giocattolo cioè quei blindatini lì sono proprio giocattolo sta cosa la adoro è bellissimo ma poi non mi ricordo ma non è aiutami tu allora c'era un gioco a me pare che era per vr che c'erano i soldatini fatti quadrati tipo come just in time però è basato tipo sulla seconda guerra mondiale che erano proprio appunto tipo soldatini che si è facevano la guerra quello lo vorrei comprare una spia dei cattivoni aveva trovato il signor ora rinforzato eeeh trincia si me butti giù il muro questo qui non mi faccio buttarlo non c'è granada in fatto ho sbagliato il muro si questo qua sting sting no è che hanno visto me stanno cercando di prendere me non c'è tempo ah gli stavo dando la schiena ancora uno degli amichetti avevano preso il signor orso i cattivoni non avevano più il signor quello è il signor orso che ne so io chi è così ti spara in piede così ti spara in testa come sono morto male che poi fateci caso il mirino contrasta molto meglio così questi colori strani però quando vedi il tizio verde o blu non è che sbaglio è colorata come tutti gli altri vabbè che ne sai però voglio vederla scusa come che ne sai è ovvio sono tutti colorati con colori random base sarà pastello uguale agli altri ero immagini ma dove si nascondeva il signor orso si aveva fatto ma dove si nascondeva il signor orso a me mi ha detto invece tipo per cercare il signor orso dobbiamo prima trovarlo ma guarda ecco il signor orso è bellissima no ho sparato al signor orso ma poi perché sta con le manine affativose qui aiuto si ma fa che bellissima ma poi si sente pure che squida al telefono come sono giallo ovviamente giallo scudo d'assalto montato scudo d'assalto montato poi con le puccine tutte un po' distorte guarda il buco che c'è tipo il disegno non mi piace il muro quei disegnini che si muovono lo vorrei nella vita vera sarei disposto a fare un muro con un unicorno madonna la sala di pilotaggio ma sono caduto non ci credo comunque c'è il pochetto al sopra di occhio cambio caricatore trannata frammentazione non ci credo è rimasto un amichetto non mi aveva visto è rimasto un amichetto no per me li passano nella schiena sono passati ma non è che ti farò uno sconfitto uffa diciamo che non sei proprio voltato girato ma cos'è ma che cosa sono gli effetti sonori sono abbastanza sconvolto è rimasto un amichetto